Nel 1999 è stata sposata per un mese con l'attore doppiatore Massimiliano Virgili, lasciato per Andrea Pezzi, nel 2006 ha avuto un figlio, Gabriele, da Roberto Angelini, successivamente si lega a Marco Cocci. Dal 2014 ha una relazione con il produttore Marco De Angelis, da cui il 20 gennaio 2016 ha il suo secondo genito, Tito.